Operazione sanificazione ambientale. Ogni autobus dell'ATV viene sottoposto a trattamenti come questo. Erogazione di vapore secco a una temperatura di 180 gradi con tanto di disinfettante in tutta la superficie del mezzo e un'ulteriore sanificazione con l'ozono che con il suo notevole potere ossidante e disinfettante quando entra in contatto con qualunque materia organica innesca un'azione di ossidazione che uccide subito batteri, virus, acari, microorganismi di qualsiasi tipo. Operazioni rutinarie in ATV aumentate in questi giorni. Chiaramente noi dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute e anche della Regione Veneto e quindi sanificare ulteriormente, già lo facevamo, gli autobus in maniera più determinata e più continua. Quindi iniziamo a fare queste procedure tutti i giorni su tutti gli autobus in modo da renderli assolutamente sterili per il giorno dopo. Questo per quanto riguarda il pubblico. Anche il personale aziendale viene salvaguardato con la distribuzione di prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida, anche se in questi giorni l'utenza è davvero esigua. Nel giorno medio trasportiamo circa 180.000 utenti ogni giorno. In questi giorni dove le scuole sono chiuse in ogni ordine grado e anche l'università chiaramente ne trasportiamo molti meno. Speriamo che questo passi in fretta anche per l'azienda ma soprattutto per tornare alla normalità in una società che insomma in questi giorni è un po' scombussolata.